La finanza in soldoni è un podcast di educazione e informazione finanziaria a cura di Massimo Famularo. La scorsa settimana le banche centrali in Europa e negli Stati Uniti hanno preso decisioni di politica monetaria in linea con le aspettative dei mercati. La Fed ha lasciato invariati i tassi, mentre la BCE li ha alzati di 25 punti base. L'aspetto meno atteso riguarda le prospettive per il futuro, poiché dall'aggiornamento delle previsioni sull'andamento dei tassi futuri, formulate dai vertici della banca centrale americana, il dot block, emerge la concreta possibilità che si verifichino due rialzi dei tassi entro la fine dell'anno. A questo va aggiunto che, dagli aggiornamenti sulla crescita e sulle altre principali variabili, emerge un miglioramento delle prospettive per l'anno in corso, che quindi potrebbe confermare l'ipotesi di un'ulteriore stretta monetaria e di un peggioramento per il bienio successivo. La BCE ha annunciato un altro aumento di 25 punti a luglio e soprattutto una revisione al rialzo delle stime di soddisfazione corte nei prossimi tre anni, associata ad una maggiore crescita economica. In controtendenza, invece, la Cina ha ridotto i tassi sui presidi a medio termine e potrebbe invece avviare quindi una politica espansiva per sostenere la crescita dell'economia che appare nel rallentamento. E questo elemento, anche in considerazione alla possibile recessione economica, lascia prevedere che dopo aver raggiunto i massimi nel corso di quest'anno, anche la politica monetaria negli Stati Uniti e in Europa, possa quindi allentarsi successivamente. Vi ricordo che potete scrivere l'indirizzo mfamularoblog.com per spunti e suggerimenti o anche per avviare corsi di educazione finanziaria nelle scuole o di formazione nell'ambito di welfare aziendale per le imprese. L'indirizzo è sempre mfamularoblog.com. Dati positivi per l'Italia, con il prezzo delle materie prime ed in particolare del gas, che restano sui minimi dall'inizio dell'anno, favorendo un calo dell'inflazione non cuore. Inoltre, vediamo che la Banca d'Italia ha rivisto al rialzo le proprie stime di crescita per il 2023, ipotizzando per l'anno in corso un aumento dell'1,3% a fronte dello 0,6% immaginato a gennaio e un tasso di inflazione armonizzato al 6,1% dal 6,5% previsto in precedenza. In calo le previsioni per il prossimo anno a più 1% dall'1,2%, tagliando anche le previsioni dell'inflazione dal 2,3% al 2,6%. Per il 2025, infine, si attende una leggera riduzione delle stime di crescita da 1,1% ad 1,1% da 1,2%, mentre l'attesa sull'inflazione resta invariata al 2%, quindi in linea con i target della Banca Centrale Europea. I mercati finanziari sembrano per il momento non curarsi delle restrizioni monetarie e continuano a correre, anche se questo eccesso di ottimismo può preludere a qualche momento di correzione in corso dell'anno. Come sutilizzare queste indicazioni in parte contrastanti? I tassi di interesse, che sono ancora in crescita nei prossimi mesi, e le inflazioni resteranno comunque elevati in Europa, almeno per quest'anno, ed è improbabile assistere ad un'investione di tendenza prima del prossimo. Resta quindi conveniente portare sul mercato monetario per approfittare del contesto e ridurre in parte l'erosione del potere d'acquisto causata dall'inflazione. L'ottimismo delle borse va guardato con cautela e la raccomandazione di procedere agli investimenti graduali si presenta ancora più opportuna a fronte del rischio di correzioni nel corso dell'anno. La finanza in soldoni è un progetto multicanale che include questo podcast, una newsletter, potete iscrivervi per rimanere aggiornati e ricevere i testi dei podcast, e una serie di video su YouTube, oltre a un libro con lo stesso nome. Se i contenuti vi piacciono potete fare una donazione oppure segnalarlo ai vostri amici ascoltando il podcast, mettendo un like o iscrivendovi alla newsletter. Arrivederci!